Pare che nel 72, qui c'era non tutto urbanizzato, c'era ancora la campagna, hanno visto delle luci di notte, un'astronave, poi sai anche lì la storia di Enrico Ruggeri è venuto indagare, non è vero niente, però un'astronave, il propellente per le astronavi, il Lambro ha un concentrato tale di idrocarburi chimico, arsenico, c'è dentro tante di quelle robe che senza volerlo si è creato un mix che funziona da propellente per i motori che hanno gli UFO, che non sono i nostri motori a scoppio, sono motori che hanno delle leggi fisiche ben diverse dalle nostre, comunque quest'acqua qua sono sempre quelle robe che chi andrà a pensare diventerà molto preziosa, perché sarà il propellente dei mezzi di propulsione che avremo.